Prova ad immaginare un'intera stagione calda con temperature superiore ai 20 gradi, tanta luce e la possibilità di allenarti con la tua bike in qualsiasi momento della giornata. Questo è possibile solo in poche location sul pianeta, ma noi viviamo in Italia e il ritorno dell'ora solare ci avvisa che l'autunno è già iniziato e che da quel momento praticare ciclismo all'aperto durante la settimana e soprattutto di sera diventa poco pratico. Le alternative specifiche che hai a disposizione sono l'allenamento sui rulli oppure l'indoorcycling, disciplina che amo e che consiglio e della quale sono trainer ben dal 1996. Oggi da noi a Gymnasium hai un'alternativa in più, si chiama Skillbike. Vuoi scoprire cosa puoi fare con Skillbike? Un nuovo modo specifico ed efficace per i tuoi allenamenti di ciclismo è oggi possibile con Skillbike, la rivoluzionaria Stationing Cycle di Technogine, un bellissimo strumento che ti permette di ottimizzare e migliorare le tue prestazioni e di vivere l'emozione e la sfida del ciclismo outdoor in un ambiente indoor. Sei un ciclista e approfitti dei mesi freddi dell'anno per impostare un programma che alleni e migliori watt alla soglia? Pratichi l'indoorcycling? Utilizzi una bike stazionaria con un misuratore di watt ma non sai quali valori impostare durante le tue ride in palestra? Sei un ciclista e vuoi fare un test per stabilire i tuoi parametri di watt e frequenza cardiaca alla soglia? Se desideri raggiungere uno o più di questi obiettivi, Skillbike è lo strumento che fa per te. Ti aiuta a sviluppare la potenza, a migliorare la resistenza in salita e soprattutto puoi monitorare ogni allenamento che vuoi. Per comprendere bene il potenziale di Skillbike non ti resta che provarla. Alcuni ciclisti l'hanno già fatto e sono rimasti meravigliati della funzionalità e della potenzialità di Skillbike. Compila il forum e ti contatterò al più presto. Grazie.